buongiorno a tutti continuiamo con le nostre lezioni e parliamo di architetture web abbiamo necessità di parlare di architetture web perché questo sono un elemento fondamentale nel nostro corso in quanto quello che andremo a fare saranno appunto poi delle applicazioni web e quindi dobbiamo avere almeno i rudimenti di qual è l'architettura del web e quindi su che cosa si va ad appoggiare una applicazione web questo è lo schema di quello di cui andremo a parlare in questa video lezione anche nella successiva questa video lezione verrà divisa in due parti nella prima parte parleremo della architettura del web quindi cerchiamo di capirne i componenti fondamentali in particolare dal punto di vista software quali sono i software gli elementi fondamentali che compongono perlomeno nello schema di base quello che comunemente chiamiamo il web e parleremo brevemente di protocolli che sono utilizzati per trasmettere informazioni in questa architettura web e poi diremo qualcosa riguardo ai linguaggi che vengono utilizzati per andare a descrivere per esempio le risorse web piuttosto che programmare dei comportamenti e così via nella nella lezione successiva parleremo più diffusamente di questi componenti e di come questi interagiscono una volta che li rendiamo diciamo programmabili li possiamo programmare appunto dal punto di vista dello sviluppatore vediamo quindi che prima di tutto dobbiamo parlare di architetture e dare un po' di definizioni comuni in maniera che possiamo poi parlare diciamo in termini corretti di quanto succede nell'architettura web trattando sia quello che succede lato server quindi l'elemento al quale il client si collega e nel quale poi andremo fondamentalmente a programmare per quanto riguarda questo corso e infine parleremo anche di pattern architetturali quindi quali sono diciamo le architetture che vengono utilizzate comunemente oggigiorno ok quindi cominciamo dall'architettura e definizioni l'architettura web è un'architettura a strati a livelli a livelli a tire si direbbe in inglese e ogni livello ha un suo ruolo ben definito guardiamo in cima abbiamo cominciamo qui a sinistra dal browser che è la cima della nostra piramide di livelli che si appoggia sull'infrastruttura internet che serve a effettivamente trasportare le informazioni tra il browser e quello che sta dal lato del server infatti qui sotto vedete nella parte bassa della piramide tutto quanto si chiama server perché sta tutto appunto dal lato del server cioè l'elemento al quale gli utenti che utilizzano il browser sul loro calcolatore si collegano per poter interagire appunto secondo lo schema dell'architettura web dopo l'infrastruttura di comunicazione abbiamo un primo elemento che è quello che riceve le richieste da parte del browser che è il server web il server web generalmente non opera da solo ma opera utilizzando servizi aggiuntivi che solitamente risiedono e richiedono anche un application server apposito il server web è un componente standardizzato come vedremo che si occupa di rispondere secondo il protocollo previsto dall'architettura web al browser e quindi interagire direttamente con il browser ma per far funzionare la logica applicativa sul server abbiamo bisogno appunto di qualcosa che faccia girare codice sul lato server e che appunto risiede nell'application server molto spesso l'application server si avvale di ulteriori server specializzati nel eseguire nel fornire certe funzionalità la più comune delle quali è quella funzionalità di accesso ai dati dal punto di vista della storage quindi dell'immagazzinamento dei dati e del recupero di tali dati quando questi servono questa funzionalità è generalmente realizzata da un database server e quindi un elemento che ci consente di mantenere in forma permanente dei dati piuttosto che di avere un veloce recupero dei dati quando essi servono alla logica applicativa per produrre dei risultati notiamo anche che questa piramide non è una piramide perfetta in quanto esiste una punta addizionale in questo disegno piuttosto che una doppia base cominciamo dalla doppia base che è forse la parte più intuitiva l'application server oltre ad appoggiarsi ad un database server può appoggiarsi ai servizi di terze parti quindi collegarsi ad altri server magari pure utilizzando di nuovo uno schema come quello dell'infrastruttura web quindi utilizzando un servizio web ossia di fatto agendo da client per un terzo servizio per andare per esempio a recuperare dati risiedenti su un altro server che so, pensiamo alle previsioni del tempo piuttosto che alla pubblicità piuttosto che a qualcos'altro che viene integrato nella risposta del web server verso il nostro browser il browser è il client più comune ma non è necessariamente l'unico client che esiste nella architettura web in quanto l'architettura web è oramai così diffusa e così standardizzata che anche altri tipi di client si appoggiano su questa struttura quindi utilizzando il protocollo e la stessa logica che viene utilizzata per i server web quindi nell'architettura web altri tipi di client possono andare a fare richieste utilizzando lo stesso protocollo e così via chiaramente le parti sottostanti quindi l'application server eccetera saranno adattati a questi client e questi client effettueranno queste richieste in maniera magari del tutto indipendente e del tutto trasparente rispetto a quanto fa l'utente l'utente quando interagisce con un browser tipicamente ha la percezione di effettuare delle richieste verso un server perché per esempio clicca su qualcosa piuttosto che carica una nuova pagina piuttosto che digita un url e così via attende un po' per avere una risposta del server in questa fase ha imparato che sostanzialmente stiamo attendendo la risposta di un server quando invece usiamo un'applicazione di altro tipo per esempio pensate ad un'applicazione che gira localmente una delle tante applicazioni che oramai vi chiedono di autenticarvi prima di iniziare a lavorare che so office piuttosto che altro tipo di applicazioni di questo tipo che quindi mantengono una certa serie di informazioni sul server tipicamente lo fanno tramite richieste web quindi utilizzando il protocollo dell'architettura web tradizionale quindi richiesta HTTP verso un server appositamente progettato e pensato per funzionare con questa applicazione e ricevono risposte che utilizzano per dare ulteriori informazioni all'utente che so più suggerimenti piuttosto che altre cose di questo tipo che possono essere utili nell'utilizzo dell'applicazione stessa ma senza che l'utente neanche si accolga che queste richieste vanno e vengono verso un server di fatto di tipo web perché non si interagisce con questo server di tipo web tramite il browser la comunicazione ovviamente avviene tramite la rete che oramai è la rete internet quindi la rete internet ci consente di comunicare tra il client e il server oramai siamo tutti connessi a questa rete e consente in particolare in un'architettura generale nel paradigma client-server ad un client di parlare con un server storicamente sul client abbiamo un server scusate un web browser quindi quello che in italiano viene chiamato navigatore con un termine forse un po' inusuale cioè un programma che ci consente di navigare cioè un browser web quindi di visualizzare pagine di questa architettura web e diremo tra poco qual è il formato di queste pagine quali sono i linguaggi utilizzati eccetera eccetera ma oggigiorno dicevamo può essere per esempio un'applicazione desktop quindi un'applicazione che gira nativamente sul computer ma fa partire richieste http quindi secondo questa architettura web verso un server piuttosto che un'applicazione mobile questo forse è più vicino a quello che facciamo tutti i giorni con gli smartphone noi interagiamo con un'applicazione e questa applicazione senza dircelo di fatto va ad effettuare richieste verso un server e molto molto spesso queste richieste le fa tramite una tramite il protocollo che viene utilizzato nell'architettura web quindi il protocollo http il client come abbiamo detto prima può essere anche un'altra applicazione server come abbiamo visto quindi un'applicazione server che va a richiedere un'informazione a una terza parte lato server abbiamo diversi tipi di server il primo è il web server quindi quello che parla il protocollo dell'applicazione dell'architettura web quindi il protocollo http e quindi ha di fatto il compito di interpretare le richieste http e dare delle risposte anzi per ogni richiesta da una ed una sola risposta e poi ci sono i server che si dedicano a compiti più particolari qui abbiamo evidenziato l'application server e il database server ma ci possono essere anche servizi più avanzati per esempio i server specificatamente pensati solo per l'autenticazione piuttosto che per la cifratura decifratura dei dati piuttosto che una traspissione continua e così via noi non ci addentreremo nei dettagli di questi tipi di server ma ci limiteremo semplicemente a questi tre che sono la base per iniziare a costruire applicazioni web che siano diciamo che abbiano un'utilità pratica diciamo abbastanza evidente pur non essendo diciamo troppo complesse quindi non prevedendo meccanismi troppo complessi dal punto di vista delle funzionalità come streaming piuttosto che cifratura eccetera generalmente il client e il server sono connessi dicevamo tramite la rete internet tramite una rete cosiddetta one wide area network cioè una rete che ci consente comunicazione a lunga distanza con banda più o meno variabile a seconda del tipo di collegamento che abbiamo a disposizione verso la rete internet a seconda quindi anche del tipo di client che abbiamo fisso mobile eccetera una volta che arriviamo sui server generalmente questi server risiedono in un luogo particolare in un data center o comunque in un'infrastruttura fisica dedicata nella quale sono connessi a velocità piuttosto elevata tramite una rete locale una LAN piuttosto che una SAN SAN sta per storage area network nella quale la rete SAN è ottimizzata per scambiare grossi volume di dati in breve tempo tra server parliamo ora di server abbiamo parlato genericamente di server ma sarebbe meglio fare una piccola distinzione tra un server cosiddetto logico nel senso che è un processo software che gira su un particolare computer e che da fornisce informazione a un client nel momento in cui questo client glielo richiede piuttosto che un server fisico cioè proprio un hardware un computer un dispositivo che potete prendere in mano un dispositivo quindi un computer su una collegato ad una rete che mantiene l'informazione e quindi effettivamente è un server nel senso che serve delle informazioni e chiaramente al di sopra del server fisico dovrà poi girare un server logico quindi un software che sia in grado di svolgere questa operazione questa separazione tra server logico e server fisico è importante perché non c'è sempre un mapping quindi una mappatura uno uno tra server logico e server fisico certo nel caso più semplice possiamo avere un unico server logico quindi un unico processo server che gira su un unico server fisico quindi su un unico computer però possono presentarsi anche casi abbastanza differenti per esempio possiamo avere più server logici che girano su un unico server fisico specialmente se il carico di questi server è abbastanza basso ha senso che uno stesso pezzo di software quindi un server logico serva scusate più più server logici quindi più software girino sullo stesso hardware fisico e servano quindi richieste provenienti da client che fanno riferimento a funzionalità differenti logicamente separate d'altro canto ha anche senso il fatto che un unico server logicamente unico quindi che sta insieme logicamente dal punto di vista delle funzionalità quindi fornisce le stesse funzionalità giri su più server fisici differenti questo è il caso dei servizi che devono essere forniti a tanti tantissimi client pensate ai servizi web in generale che utilizzate tutti i giorni che sono di google facebook e tutte queste grandi aziende che forniscono servizi a milioni se non miliardi di client chiaramente la stessa funzionalità va replicata duplicata replicata su più server fisici differenti e qui però entriamo in un discorso più complesso di scalabilità che non affronteremo direttamente in questo corso passiamo oltre e quindi cominciamo a parlare degli strati dal punto di vista del server che abbiamo visto essere appunto numerosi quindi cerchiamo di capire di più come funziona il lato server il lato client abbiamo detto è relativamente semplice nel senso che vi ricordate quella piramide in cima quel pezzettino di piramide in cima in cui c'è o il server web oppure c'è appunto un qualche programma che agisce da client per il resto del server per il server cominciamo a parlare di server web che cosa fa un server web un server web gestisce il protocollo http fondamentalmente cioè il protocollo previsto dall'architettura web per inviare richieste e ricevere risposte questo dal punto di vista del client oppure se lo vediamo dal punto di vista del server per gestire le richieste quindi lavorare le richieste e fornire risposte al client quindi dal punto di vista del server gestire le richieste e fornire risposte quindi il server web è in grado di gestire il protocollo http e siccome un server deve ricevere le richieste del client nel momento in cui riceve una richiesta deve processarla processarla nel caso più semplice vuol dire per un server web andare nel file system a cercare la risorsa che corrisponde dalla richiesta http quindi a ciò che viene richiesto dal protocollo http vedremo un esempio tra poco e nel caso più complesso di cui parleremo però più avanti nella prossima video lezione attivare l'application server che corrisponde alla funzionalità richiesta nel caso di pagine dinamiche e poi fornire una risposta e questa risposta è standardizzata nel senso che deve essere una risorsa scritta in formato html al client perché il browser si aspetta una risorsa formattata in questa maniera quindi che segua questa specifica html in generale abbiamo nel caso più semplice un'unica richiesta http però un'unica connessione http per ogni richiesta il server web però chiaramente è un software relativamente sofisticato ossia è in grado di servire contemporaneamente più processi scusate più richieste tramite più processi oppure se organizzato in maniera un po' diversa può utilizzare più thread piuttosto che processi oppure crearli non appena questo viene lanciato e così da fare in modo di essere già pronto e avere già un processo un thread pronto a servire ogni nuova richiesta che arriva non entreremo nello specifico di come scrivere server web anche perché oramai questo lavoro è stato standardizzato nel senso che esistono una serie di software che agiscono da server web ben sviluppati maturi e molti di questi sono anche open source che possono essere utilizzati efficacemente a questo scopo vediamo un esempio nell'architettura web di come funziona il web server questo è il caso più semplice in cui abbiamo un client che ha un urlo di riferimento quindi voi mettete un url che è una stringa particolare all'interno della barra del browser che state utilizzando lo mettete voi o lo ottenete tramite un click su una risorsa particolare all'interno di una pagina visualizzata nel browser e così facendo dite al browser di andare ad effettuare una richiesta http che arriva al server web il quale server estrae da questa richiesta un percorso un percorso del file system locale nel quale va a prendere la risorsa e la risorsa dicevamo è tipicamente un file che viene caricato dal programma server web e scritto in formato html e viene preso e spedito indietro al client tramite una risposta http quindi seguendo il protocollo http arriva al client quindi al browser il quale sa interpretare il formato html e di default è sostanzialmente l'unico formato che sa interpretare perché è quello appunto delle risposte che arrivano tramite il protocollo http e interpreta il contenuto e costruisce una visualizzazione di una pagina e in questa maniera avete un'interazione con un server web che vi fornisce un contenuto che siete in grado di visualizzare tutta questa architettura si basa su una serie di standard questi standard sono quelli che vedete listate sulla slide quindi c'è una maniera diciamo standardizzata per esprimere un url url sta per uniform resource locator ossia di fatto una stringa di testo quindi del testo che identifica un invocamento una risorsa web c'è un modo standardizzato per andare a descrivere il contenuto di una pagina web che si chiama html sta per hypertext markup language ci sono dei formati apposta per andare a diciamo descrivere il contenuto di una serie di risorse utili da visualizzare all'interno delle pagine web per esempio immagini piuttosto che altri tipi di contenuti qui ne citiamo uno tanto per fare un esempio c'è il protocollo che è il protocollo http che sta per hypertext transfer protocol quindi vedete è stato proprio pensato per trasferire risorse di tipo http pensato per una interazione tipo client server quindi c'è qualcuno che inizia una comunicazione con un server e quindi invia una richiesta e il server è sempre in attesa e non appena riceve una richiesta invierà la relativa risposta secondo quello che decodifica dal protocollo e poi al di sotto di tutto c'è il protocollo che ben conoscete che è quello utilizzato sulla rete internet per il trasporto affidabile di informazioni che è il protocollo tcpip quindi transmission control protocol diciamo over internet protocol per il trasferimento affidabile di dati sulla rete internet esempio di url questo è un esempio di url abbiamo una prima parte che è il cosiddetto schema tipicamente http o https altri schemi diciamo sono ormai abbastanza caduti in disuso ma http e https sono gli schemi che qualsiasi browser è in grado di interpretare poi abbiamo una parte che corrisponde al cosiddetto hostname cioè quello che viene ricercato viene utilizzato scusate dal browser per andare a determinare quale server bisogna contattare e se è in forma di stringa alfanumerica c'è un apposito servizio dns che ce lo converte in forma numerica cioè un indirizzo ip che è quello tramite il quale col protocollo tcp andiamo a comunicare quindi contattiamo il server apriamo un canale tcp con il server e su questo canale inviamo la cosiddetta richiesta http che conterrà non il l'indirizzo ip che è già stato utilizzato per aprire la comunicazione ma la parte che ci interessa dell'url cioè l'identificativo della risorsa locale a cui vogliamo fare accesso nel momento in cui questo arriva sul server web un apposito meccanismo determina dove si trova questa risorsa nel file system locale per esempio va a modificare l'url trasformandolo in uri uniform resource identifier quindi per esempio aggiungendo una parte o comunque modificando il percorso per far sì che sia un file name valido e si va a recuperare nel file system il contenuto del file che viene poi inviato così indietro nella risposta http al client che ha fatto la richiesta non andremo in questo corso a discutere di html html è un linguaggio di descrizione di contenuti di una pagina e tra l'altro molti di voi probabilmente lo conoscono già o comunque è piuttosto facile diciamo andare a imparare quello che ci serve per quanto riguarda il linguaggio html ci sono tante risorse in rete questa è una di quelle che vi suggeriamo di andare a vedere se volete maggiori informazioni ci sono anche risorse un po' più semplici forse a tratti fin troppo semplici se volete imparare html in 5 minuti questo v3 schools che però ogni tanto è fin troppo semplificato in certi aspetti quindi da utilizzare diciamo con attenzione prima di andare a vedere un esempio pratico di come funziona il meccanismo del browser in pratica nella richiesta verso il server web quando andiamo a caricare una pagina reale ancora due parole appunto sul sull'url abbiamo visto prima un esempio di questo tipo quindi schema hostname con percorso il percorso può anche essere un po' più complicato voi notate qui il punto interrogativo se è presente il punto interrogativo significa che quello che segue è qualcosa che dovrà essere interpretato dal server web come una query quindi passata ad un application server che dovrà diciamo dare una risposta coerente con la richiesta che è stata effettuata quindi questa non è una risorsa locale ma è un qualcosa che deve essere interpretato piuttosto che può esserci anche un ulteriore aggiunta dopo il path che è il cosiddetto frammento che è un punto specifico all'interno della risorsa html che abbiamo identificato col percorso come funziona il protocollo http il protocollo http che tra l'altro dovreste già conoscere è relativamente semplice è standardizzato come tutto quello di cui dicevamo prima in questi rfc e è un protocollo in forma testuale quindi lo potete leggere come stiamo facendo qui e abbiamo delle richieste che seguono questo formato le prime due linee sono obbligatorie get che è il verbo della richiesta quindi la più semplice get dammi un certo percorso in questo caso il percorso più semplice possibile che è slash secondo una certa versione del protocollo e poi c'è una seconda linea secondo questa versione 1.1 che è la più diffusa del protocollo dobbiamo specificare a quale host facciamo riferimento questo perché lo stesso server web quindi lo stesso pezzo di software che risponde allo stesso indirizzo IP potrebbe gestire richieste per server web anche differenti e quindi questo ci aiuta aiuta anzi serve al 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 server web a capire con quale server effettivamente vogliamo parlare server inteso server logico di una certa serie di contenuti html che vogliamo andare a recuperare e poi ci sono tutta una serie di header addizionali che magari andiamo poi a vedere nella pratica in un esempio che specificano una serie di informazioni aggiuntive opzionali che però potrebbero essere utili per esempio chi fa la richiesta che tipo di informati vengono accettati eccetera risposta nel momento in cui il server ha processato la richiesta quindi ha determinato se è possibile servire la richiesta avremo una linea obbligatoria di risposta con l'identificativo del protocollo con un codice relativo allo stato di questa richiesta c'è se ha avuto successo o non ha avuto successo se c'è stato un errore che tipo di errore c'è stato e così via quindi c'è tutta una serie di numeri che corrispondono agli vari errori che possono verificarsi per esempio 200 in realtà non è un errore ma appunto tutto bene quindi seguirà la risorsa questo ok è la parte testuale che corrisponde al numero scritto qui a sinistra un altro numero molto tipico è il 404 che corrisponde al not found cioè non è stata trovata la risorsa se specificiamo un percorso che non corrisponde ad alcuna risorsa e così via e poi di nuovo ci sono tutta una serie di header utili non obbligatori però appunto possono essere utili per esempio il tipo di codifica utilizzata il tipo di contenuto la data nella quale è stato modificato per ultimo il contenuto così se si volessero utilizzare eventuali politiche di caching così è possibile farlo chi è il server eccetera eccetera e dopo il contenuto stesso in formato html quindi dopo un doppio capo segue secondo la specifica del protocollo http il body del messaggio cioè effettivamente la risorsa html due parole sul protocollo e poi andiamo a vedere un esempio reale il protocollo http si è evoluto nel corso degli anni dalla primissime versioni diciamo 0.9 quasi 1 fino al protocollo versione 1.0 nel frattempo tra l'altro è nato anche l'https cioè la versione http trasportata su un canale sicuro quindi cifrato e quindi non leggibile da chi cattura il traffico di rete il protocollo più diffuso è http 1.1 del 1997 quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa e lo citiamo appunto perché tra questo e il punto successivo che è l'http2 che comincia ad essere diffuso sono passati appunto quasi 20 anni quindi per 20 anni è stato il protocollo dominante per quanto riguarda l'architettura web e adesso ci si sta muovendo lentamente anche verso http3 con funzionalità sempre più diciamo sofisticate in particolare per esempio sul numero di connessioni che è necessario effettuare che sono da un punto di vista pratico abbastanza pesanti da creare e quindi si cerca di minimizzarle perché come vedremo quando carichiamo una pagina non dobbiamo chiedere una sola risorsa ma probabilmente ne dovremo chiedere di più perché questa pagina contiene elementi addizionali che vanno presentati all'utente come immagini e così via comunque questo discorso è relativo al protocollo http e non ci addentriamo ulteriormente in questo in questo senso andiamo a vedere nella pratica un esempio quindi prendiamo un browser web in questo caso Chrome può essere un qualsiasi browser web e andiamo a prendere una pagina qualsiasi come per esempio un urlo che rappresenta una pagina wikipedia per esempio web application la carichiamo e appunto ci viene visualizzata all'interno del nostro browser prima di tutto andiamo a vedere com'è costruita questa pagina quindi se voi utilizzate per esempio il tasto destro e andate a cercare il sorgente della pagina ctrl u in questo caso ma appunto col tasto destro è molto più facile abbiamo il menu view page source possiamo visualizzare il sorgente della pagina lo facciamo un po' più grande per comodità di lettura doc type html eccetera eccetera quindi questo è formato html che ci viene evidenziato per nostra comodità dal browser che conosce l'html quindi ci fa la cortesia di evidenziare i vari elementi i vari elementi non abbiamo parlato di html abbiamo detto di andarsi a guardare qualcosa su internet se non conoscete html che però è abbastanza semplice in html diciamo due parole adesso ci sono questi tag aperti chiusi quindi minore il nome del tag slash tag chiude il tag stesso annidando questi tag lavorando con questi tag possiamo creare una struttura anche complicata di pagina quindi generalmente la pagina html anzi la pagina html è composta di tre parti c'è una prima parte che specifica il formato html poi c'è la parte di header html che si chiude ad un certo punto scusate non html c'era l'head ecco sbagliato che si chiude ad un certo punto quindi la parte di header che non viene visualizzata sono risorse utili in generale al browser piuttosto che a motori di ricerca piuttosto che ad altre cose per esempio a caricare dei contenuti precaricare i contenuti script e così via e poi c'è la parte body che effettivamente contiene tutto il codice della pagina il codice html della pagina ci sono appunto i vari tag annidati se necessario come vedete in questo caso div che contiene al suo interno un altro tag a che è il tipico tag che ci serve per realizzare le ancore cioè i link e così via quando c'è da inserire nel testo questo testo viene semplicemente inserito come testo puro quindi tutto ciò che non è racchiuso nei tag è un testo da visualizzare all'interno della pagina del browser quindi il formato html è relativamente semplice appunto basta conoscere alcuni tag fondamentali e saremo in grado di interpretarlo facilmente e di scriverlo se necessario possono anche essere presenti codici per esempio con il tag script di questo comunque ne parleremo quando necessario e appunto quindi quanto segue è del codice che eventualmente deve essere eseguito a seconda dei momenti a seconda delle interazioni che l'utente ha col browser per realizzare certi comportamenti chiudiamo questa parte di sorgente usource quindi torniamo alla nostra pagina che adesso però rifacciamo un po' più piccola per nostra comodità e vediamo come si comporta il browser web in tutti i browser moderni oramai è possibile andare a vedere che cosa succede tramite una specie di debugger integrato che è integrato in tutti i browser moderni nelle versioni standard quindi non dovete installare niente di particolare tramite il menu inspect o ctrl shift i potete aprire il debugger integrato il debugger integrato che adesso ingrandiamo ci consente di andare a visualizzare cosa succede all'interno del browser html in questo caso è quello di chrome ma potete fare la stessa prova con un altro browser file fox safari e così via abbiamo diversi tab il primo tab ci consente di vedere il codice html tra l'altro un po' meglio formatato rispetto a quanto vedevamo nella pagina sorgente con anche la comodità di capire a quale parte stiamo facendo riferimento anche nella parte alta toccando nella pagina riusciamo a vedere il pezzo di codice html corrispondente piuttosto che tutto il resto stili eccetera che ci verranno poi utili più avanti in questo momento andiamo a vedere il tab network che è quello che ci interessa di più il tab network ci fa vedere che cosa succede nel momento in cui andiamo a caricare una pagina quindi ricarichiamo questa pagina lo faccio con l'operazione di reload questo bottone più premendo il tasto shift così da ricaricare tutte le risorse dal server senza utilizzare la cache locale e vedete che sono partite tutta una serie di richieste verso il server e che hanno dato come risposta qualche cosa andiamo a prendere la prima perché appunto tutto è nato dalla prima richiesta web application che è quindi l'url che abbiamo scritto qui sopra nella barra di navigazione del browser e nel primo tab qui sotto possiamo vedere gli header che ci vengono mostrati diciamo pre-processati quindi in un formato un po' diciamo di facile lettura piuttosto che in formato grezzo da qualche parte dovremmo poter visualizzare il formato grezzo dunque in chrome sembra che non si possa visualizzare questo formato grezzo però possiamo andare a fare la prova su firefox per esempio dove ho rifatto la stessa operazione e nel tab network appunto posso prendere la prima richiesta che è web application e andare a vedere il contenuto di questa richiesta e quindi vedere ecco gli header grezzi questi sono gli header di risposta come quelli che vedevamo prima http ok e dovremmo poter vedere anche la richiesta che è semplicemente sotto quindi andiamo ho sbagliato il click andiamo a vedere il formato row che è dunque riportato dalla seconda riga in poi perché viene specificato che è stata fatta una richiesta get che è stato utilizzato il path wiki web application e questo è quello che corrisponde agli header che sono stati spediti tra l'altro appunto questo essendo una richiesta http2 non 1.1 differisce leggermente da quello che abbiamo visto sulle slide qui vediamo un formato un po' più completo questo è lo user agent spedito dal browser per far sapere al server web che cosa qual è il sistema che sta facendo la richiesta cioè il client che sta facendo la richiesta il programma client il tipo di dato accettato text html piuttosto che application xhtml xml con una certa preferenza appunto per questo primo tipo di formato piuttosto che per altri tipi di formato questi q sono livelli di preferenza accettiamo come linguaggio solo l'inglese questa è una richiesta opzionale quindi una preferenza che esprimiamo al nostro server il quale se potrà accontentarci ci accontenterà se no ci darà l'unica risorsa che ha a disposizione accettiamo anche una codifica fatta con compressione gzip deflation algoritmi di compressione e così via nella parte di risposta vediamo che il server ci risponde con ok quindi la risorsa è stata trovata e ci dà una serie di informazioni tra cui per esempio quando è stata la data di ultima modifica eccetera cose per esempio ecco un'altra informazione che possiamo notare è la lunghezza del contenuto 24005 byte che sostanzialmente ci dice che quello che seguirà dopo il doppio a capo che non è più scritto qui ma sarà nella risposta che ci fa vedere come preview ma appunto questo è il payload quindi c'è il doppio a capo e che non fa parte della risposta e poi tutto il contenuto i byte della risposta sono questi e che sono lunghi esattamente 25004 quello che si diceva prima e che e che sostanzialmente ci dicono quando fermarci a leggere la risposta e attendere no ecco 24005 mi sono sbagliato e che ci dicono quando fermarci a leggere la risposta se noi siamo il browser che riceviamo la risposta e quindi sappiamo che non dobbiamo aspettarci informazione addizionale questo è utile soprattutto per i dati di tipo binario come le immagini e così via dove altrimenti non sapremo quando fermarci torniamo su chrome così facciamo anche un po' di diciamo vediamo gli aspetti su diversi browser possiamo chiudere questa parte e ritornare sulla richiesta iniziale che avevamo fatto e vedere che il browser ci fornisce all'interno di questa interfaccia di debug anche tutta una serie di informazioni statistiche utili quali per esempio il tempo che ci ha messo ogni richiesta dal momento in cui è partita fino alla risposta completa e così via e come vedete qui lo chiamano cascata nel senso che caricata la prima risposta interpretato il codice html abbiamo scoperto che nel codice html erano presenti altre risorse da ricaricare quindi sono partite in parallelo tutta una serie di altre richieste e poi mano a mano che si scopre che ci sono altri elementi da caricare questi vengono caricati e così via quindi la visualizzazione è completa solo nel momento in cui tutti gli elementi vengono caricati e vengono visualizzati e ci va un po' di tempo sia perché non possiamo chiedere tutto quanto insieme in parallelo per non sovraccaricare il server e per non avere troppa complessità nel programma client però questo è gestito in maniera del tutto automatica dal browser con il server quindi abbiamo visto come funziona nella pratica il caricamento di una pagina di una risorsa web tutto è avvenuto in un totale di 600 millisecondi sono stati trasferiti 169 mila byte e sono state fatte 24 richieste a partire dall'unica richiesta la prima richiesta l'abbiamo fatta noi come utenti premendo il tasto reload piuttosto che scrivendo sulla barra del url del browser e tutte le altre richieste dipendono dal contenuto della pagina che il browser ha interpretato non appena questo è arrivato quindi se torniamo alla nostra presentazione quindi abbiamo visto questo strumento di debug che in inglese chiamiamo browser developer tool utile agli sviluppatori delle pagine web non certo all'utente finale e come utilizzarlo per andare a capire come è stata costruita una pagina web abbiamo visto anche delle misure di performance in particolare la latenza quindi quanto tempo ci ha messo il server web a darci la risposta quindi il tempo di fatto richiesto per fornire una risposta alla richiesta HTTP che può essere decomposta in tante parti che vediamo nella prossima slide e diciamo questa dipende dal tipo di server che abbiamo dall'altra parte piuttosto che dalla latenza della rete e così via quindi è tutto il tempo necessario a cominciare ad aprire una connessione verso il server quindi aprire la connessione TCP inviare i dati il server ci processa i dati comincia a mandarci la risposta nel momento in cui comincia a mandarci la risposta quello che conta è il throughput ossia la velocità alla quale la rete può trasportarci le informazioni quindi byte bit byte al secondo megabyte al secondo e così via che la rete può fornirci e che il server web deve essere in grado di fornirci se vogliamo raggiungere questa velocità infatti due metriche importanti che abbiamo lato server per misurare le prestazioni del server sono il numero di richieste al secondo che il server è in grado di gestire piuttosto che il numero di pagine al secondo che è in grado di fornire come risposta alle richieste questo è uno spaccato di quanto succede in una richiesta di una pagina web statica come quella che abbiamo appena visto quindi abbiamo qualcuno l'utente che interagisce col browser al tempo t0 e il browser capisce che c'è stata un'interazione che deve andare a fare una richiesta quindi prepara in questo lasso di tempo la richiesta il messaggio http e viene inviato questo messaggio al server server web questo è il server web che deve avere il tempo di capire questo messaggio quindi di interpretare il contenuto di comporre l'url e così via e andare a mapparlo sulla risorsa sul disco la quale deve essere caricata dal disco stesso torna al server web la quale la impacchetta sotto forma di messaggio di risposta che verrà poi trasferito al browser il browser in questo lasso di tempo interpreterà la risposta quindi capirà cosa c'è scritto nella risposta http quindi nel contenuto della pagina quindi il codice html che viene inviato indietro e visualizzerà la pagina al utente il quale dopo un certo periodo di tempo quindi il tempo che ci mette a pensare farà la prossima interazione col server web e tutta l'operazione ricomincia da capo quindi c'è un secondo t0 eccetera quindi con un click o con qualcosa che scatena una nuova richiesta verso il server web questo è il tempo che ci impiega il server web questi due tempi sono i tempi di trasferimento sulla rete primo tipicamente relativamente breve ma è una questione di diciamo aprire la connessione TCP più inviare la richiesta che di solito è relativamente piccola perché è composta dalla prima riga in cui si dice che cosa si vuole fare get di un path più una serie di opzioni la risposta invece può anche essere relativamente grande se la risorsa è particolarmente estesa pensate la pagina HTTP piuttosto lunga piuttosto che risorse più impegnative come immagini video e così via che corrispondono ad un particolare url il tempo totale è il tempo totale di risposta del server web quindi quello che sostanzialmente più che del server web dell'architettura web concepita in questa maniera cioè quello che sperimenta l'utente apre il browser clicca e vuole vedere qualcosa quindi il tempo che intercorre tra quando fa l'azione e quando ha il risultato questa è l'architettura web generale quindi abbiamo il nostro utente che interagisce con lo schermo cioè vede lo schermo e fa delle azioni con il mouse con la tastiera con qualche meccanismo di input che vanno a finire nel browser uno o qualsiasi dei vari browser attualmente disponibili più o meno diffusi che sono standardizzati così come lo sono oramai i server web i server web sono standardizzati nel senso che ci sono pochi programmi che gestiscono la maggior parte dei siti web come vedremo anche i browser sono i browser più diffusi perlomeno sono relativamente pochi chrome firefox safari piuttosto che altri vari browser edge piuttosto che altri più vecchi internet explorer eccetera quindi questi due questi due riquadri verdi sono gli elementi diciamo standardizzati nell'architettura web all'interno del browser abbiamo detto che è presente un layout engine ne abbiamo già accennato parlando inizialmente di javascript perché nel layout engine tra le varie cose poi dovrà anche diciamo scusa più che layout engine è l'engine che serve a interpretare il javascript diciamo oltre a interpretare il javascript dobbiamo renderizzare le pagine e quindi dobbiamo essere in grado di interagire efficacemente con l'html con le varie risorse immagini e così via e in caso di necessità interagire con l'engine che interpreta il javascript lato server abbiamo il nostro server web l'interazione avviene secondo il protocollo http via internet come abbiamo detto nel dettaglio finora nel momento in cui il server web sa quali risorse andare a prendere va a recuperare un file che tipicamente risiede appunto sul server web che contiene dell'html che viene fornito al browser e layout engine si occupa di visualizzarlo è possibile anche che vengano fornite indietro al browser altri tipi di risorse per esempio se nella pagina è presente l'indicazione dell'url di una immagine questa dovrà essere caricata e collocata all'interno dello specifico posto nella pagina del browser stessa qualche parola sui server web più diffusi questo è un diagramma temporale abbastanza ampio vedete partiamo dal 95 fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri quindi stiamo coprendo 25 anni di storia e come vedete uno dei software web più diffusi è stato e lo è ancora abbastanza diciamo a pace con alti e bassi questo è uno share quindi il totale di queste linee per ogni istante di tempo fa 100% quindi qui siamo intorno al 60% adesso è un po' meno perché ci sono altri server un po' in crescita in particolare questo Nginx che sta prendendo piede soprattutto negli ultimi anni questi sono tutti i siti quindi è utile avere un'idea appunto di quanti tipi di software esistono seppur abbastanza standardizzati giusto per diciamo capirci quando parliamo di un certo specifico server piuttosto che un programma che realizza web server piuttosto che un altro quindi questo è in generale per tutti i siti e abbiamo anche un qualcosa di un po' più specifico per i siti attivi e quindi non semplicemente siti oramai diciamo abbandonati e quindi vedete una curva un po' più pulita diciamo così quindi Apache è uno dei software per realizzare server web più diffusi seguito fondamentalmente da Nginx che è un diciamo nato sul modello di Apache ma con una configurazione un po' più semplificata e forse qualche prestazione migliore dal punto di vista della concorrenza e così via della capacità di gestire siti a più alto traffico e poi abbiamo una terza linea che però è un misto di tanti altri e poi c'è una serie di altri software diciamo che fanno da server web tra cui per esempio quello di Microsoft IES Internet adesso non ricordo la sigla Internet Information Services che però come vedete è un po' in decrescita questo sono i i siti più trafficati la top million quindi il milione di siti più trafficati vedete che le curve sono ancora più pulite nel senso che si vede si osserva un trend un po' in decrescita di Apache che comunque ha avuto nel tempo più della metà del market share quindi di tutti i siti disponibili sulla rete ed è sceso ancora alla maggioranza un ragguardevole trenta e qualche per cento però c'è appunto questo Nginx che sta salendo parecchio piuttosto che altri siti altri scusate altri software per realizzare server web che stanno prendendo un po' più piede quindi diciamo che abbiamo anche lato server una certa standardizzazione quindi lato server abbiamo una certa standardizzazione che da un certo punto di vista ci aiuta seppur comunque il fatto che il protocollo sia standard http è diciamo quello che ci consente e ha consentito il web di diffondersi in maniera così ampia e di avere diciamo di essere adottato in maniera così massiva insieme al fatto che non l'abbiamo detto finora però apash e quell'altro nginx sono due software open source quindi liberamente utilizzabili da chiunque con licenza abbastanza libere quindi che possono anche essere inclusi in altri prodotti proprietari e così via questo è sicuramente favorito di parecchio la diffusione lato browser di nuovo abbiamo qualcosa di non perfettamente identico tra i vari vendor chiaramente però fondamentalmente standardizzato per quanto riguarda le varie tecnologie adottate html css e anche abbastanza javascript chiaramente certi dettagli differiranno leggermente però diciamo fondamentalmente sono due elementi standard sui quali possiamo andare a costruire le nostre applicazioni web questa video lezione finisce qui farò una seconda video lezione nel quale continuo la spiegazione e andiamo a parlare più diffusamente degli application server e quindi si andrà a parlare di che cosa ci sta dietro il server web nel momento in cui abbiamo bisogno di realizzare le nostre pagine in maniera più dinamica quindi per il momento vi saluto per questa video lezione vi do appuntamento alla prossima nella quale appunto andiamo a parlare di qualcosa che sta dietro il web server e che cosa si può fare per rendere il contenuto che viene fornito in risposta alla richiesta http più dinamico cioè che varia a seconda di una certa serie di condizioni al contorno finora infatti abbiamo semplicemente caricato un file fisso dal file system del server web alla prossima video lezione per ora vi saluto grazie dell'attenzione